SIGLA 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 Ma questo ragazzo lo paghiamo come cuoco o come praticante? No, perché io lo vedo sempre lì a spadellare qualcosa, a soffriggere mai, a scrivere un contratto a redigere una comparsa. Ti assicuro che sta a fare tutte e due le cose, è un ragazzo poliedrico, direi polivalente. Io sognavo di lavorare con Sergio da almeno 37 anni, tanti quanti gli anni che ci conosciamo. Avevamo presentato una serata finale di Venezia mille anni fa, una cosa pazzesca. Giusto perché eravamo molto giovani e incoscienti, non ci rendevamo conto di in che condizioni abbiamo lavorato. Però io sognavo di lavorare con Sergio un giorno, quindi ringrazio doppiamente Valerio Attanasio per avermi dato questa possibilità. E devo dire che è stato bellissimo perché dopo un nanosecondo era come se noi non avessimo fatto altro che recitare insieme tutta la vita. Cioè una sintonia immediata, un divertimento immediato. Sergio è una fantastica mina vagante, non sai mai quello che farà, ogni ciac cambia. E quindi è divertentissimo stare dietro, improvvisare. E io vado a nozze perché poi avendo formazione teatrale, nonostante la disciplina teatrale, poi è bellissimo con il rigore che ti dà la scuola del teatro, poi invece potersi lanciare nell'improvvisazione, nella follia del nostro mestiere che è bellissima. No, io sono da peggio. Cioè direi che Titti Mandorlini, già il nome dovrebbe imputare un certo terrore, è proprio una iena senza speranze. Almeno Sergio, il personaggio di Sergio è sottomesso dalla moglie, quindi qualche lato. Lei no, lei è solo una iena e questo è stato fantastico. Cioè poter fare un personaggio netto, chiaro, preciso, a tinte forti, univoco. Non c'è quei personaggi che sono cattivi ma in fondo poi sono anche un po' buoni. No, la mia Titti è solo una iena. E quindi per me è stato un gioco meraviglioso, divertentissimo poterla interpretare. Sai, io ho una figlia di 22 anni e una di 13. Come li vedo? Li vedo equilibristi. Penso che dovrebbero fare tutti della scuola di circo perché la vita in generale è un po' un'acrobazia generale. Questo sempre per tutti. I nostri giovani noi stiamo consegnando un mondo che non è proprio esaltante. Dicevamo prima che la grande commedia all'italiana, quella di Monicelli, dei Grandi Sordi, di Gasman, è nata subito il dopoguerra, quindi venivamo dalle macerie del dopoguerra. Oggi i nostri ragazzi, e questa commedia parla anche ai nostri ragazzi, viene da delle macerie che noi siamo stati capaci di regalare loro e consegnargli, che non sono quelli di una guerra ma che sicuramente non sono... Mi stiamo consegnando un paese abbastanza alla deriva, in un mondo alla deriva, in un mondo difficile per loro emergere e fare quello... Io auguro loro di avere un sogno e di poter lottare per poterlo realizzare. E sto imparando, lo sto imparando ancora adesso perché non si finisce mai di imparare, nonostante abbia da poco compiuto 42 anni. Non capisco questa risata che è arrivata sottofondo, ma insomma che per fare un mestiere non serve un solo talento, cioè qualsiasi mestiere si faccia ci vuole il talento per il lavoro che tu scegli di fare, per il mestiere che scegli di fare, ma anche devi avere un certo talento nel saperti destreggiare appunto, nel surfare nel mondo del lavoro, se possibile con onestà, se possibile meritocraticamente, però un certo garbo, una certa grazia per incedere, andare avanti, quelli sono talenti anche necessari, almeno quanto quello inerente al proprio mestiere. Il contratto va meritato, va sudato, quando sarai diventato avvocato allora ne riparleremo. Ma senti, ma non c'è qualcosa che non siano carboidrati? Che ne so, due carotini, un pomodorino? Qualcosa di un po' più leggerino. Una caprese, posso fare una caprese?